Ieri a Roma si è svolto il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza in cui si sono affrontati anche i temi legati al Comune di Fiumicino. Il prefetto Paola Basilone ha fatto un bilancio sul numero dei reati commessi nel territorio durante l'ultimo anno che risultano in diminuzione. Alla riunione ha partecipato il sindaco Esterino Montino che ha dichiarato Siamo comunque consapevoli che gli episodi accaduti in zone limitrofe impongono un livello di guardia e attenzione più alta. Durante l'incontro ho sottolineato la necessità di un coordinamento maggiore interforze e del rafforzamento dei presidi dedicati alla sicurezza. A breve verrà implementato il sistema di videosorveglianza che, grazie ad un bando regionale, ci permetterà di arrivare a 100 telecamere sul territorio in collegamento 24 ore su 24 con la centrale operativa dei vigili urbani, i carabinieri e la polizia. Il nostro comune, conclude Montino, ha anche messo a disposizione della prefettura il nuovo piano anticorruzione finalizzato a definire le pratiche di controllo degli atti amministrativi, compresi quelli demaniali e commerciali.